Oddio, ho aperto youtube veramente Benvenuti nel mio nuovo canale di youtube, per chi non mi conosce io sono fanbay, per voi fama Per chi già conosce mia sorella Aida e ha già visto i nostri video su youtube raga di 4 anni fa Io veramente mi cringe su li guardo ora perché non sembro io Abbiamo deciso di iniziare di nuovo a farli per comunque vedere i nostri vlog, quello che facciamo durante la giornata, morning routine Un po' questo, un po' quello Per chi mi segue su instagram invece avrà comunque in qualche modo intuito che dobbiamo partire per il senegal Perché non abbiamo detto la data, questo video lo vedrete dopo che saremo già arrivate e partiamo il 18 Ora sono le mezzanotte e 49 e le valigie non le abbiamo ancora fatte Perfetto, spero che questo canale possa intrattenervi in qualche modo Se non guarderete questi video a me non mi interessa In verità mi interessa e piangerò, però guardateli Ho appena scoperto che il mio mio amico nuovo non è ancora partito Lui doveva partire oggi a mezzanotte e sono le 3 e di notte non è ancora partito Sto andando a salutarlo, che non ci vedremo fino a settembre Stavo voglio rifarmi il telefono Mi ripeto Ragazzi arrivederci, ci vediamo a settembre Allora sono quasi le 3 e non avevo un garfinito di fare le valigie, la situazione valigie è questa, non so se potete più vedere Grazie per la visione 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 Grazie per la visione